Amici del canale, ben ritrovati sulla pagina, sul canale, il filosofo di strada. In questo video, oltre a salutare tutti quanti i nuovi iscritti e coloro che mi seguono da tanto tempo, questo è il terzo anno, sì, terzo anno che faccio video sul mio canale, insomma. A chi si è iscritto, chiedo anche di attivare la campanella per le notifiche silenziose per i nuovi contenuti. Chi non si è ancora iscritto, ecco, magari se lo fa, se prende questo piccolo impegno, non dispiace a nessuno. In ogni caso, in questo video, voglio portare all'attenzione di chi segue, mi segue da tempo, quella che è una mail, una mail che ho ricevuto qualche giorno fa. Ovviamente ho chiesto il permesso a coloro che mi hanno inviato la mail di renderla pubblica. Questa mail riguarda quel processo che, insomma, interessa molti, il processo dell'uscita, dell'uscita dall'Associazione dei Testimoni di Geova. Come uscire? Come uscire da leoni? Come uscire da leoni e non da pecora, perché ci sono più modi di uscire da questa organizzazione. C'è l'espulsione, per alcuni c'è l'espulsione, per altri invece c'è una nuova consapevolezza sovraggiunta e una coscienza che impedisce la permanenza all'interno di questo gruppo, proprio per motivi di coscienza. Vi voglio leggere la mail, così altri leoni, altri leoni tra noi, si possono organizzare e magari avere spunto da tutto ciò. Premetto che questo contatto, già tempo fa, mi ha chiesto la lettera per le dimissioni, la lettera per il titolo decaduto, non ricordo bene adesso se è una roba o l'altra. In ogni caso, come poi ha gestito a livello personale, perché poi ciascuno di noi, ciascuno di noi a livello personale deve gestire questa transizione. Ecco, questa transizione. Ciao Mimmo, sono eccetera eccetera. Ci sono stati sviluppi nella nostra fuoriuscita dai TDG, mi scrive, e avevo il piacere di condividerne con te il contenuto. Dopo la lettera di socio decaduto, ecco, si tratta della lettera di socio decaduto che mi era stata chiesta, ho capito, ho capito, scrive, che dovevo fare ancora qualcosa. La congregazione, la congregazione sarebbe la comunità a cui lui si è sempre associato, insomma, no, in quanto testimone di Geova. La congregazione mi vedeva come un normalissimo inattivo, perché tra i TDG ci sono diversi inattivi, sono in quel limbo, no, in quel limbo che li considerano ancora, anche se magari attivi, inattivi da decenni, li considerano ancora associati ma inattivi. Ecco, la questione del titolo decaduto proprio non la concepiscono, vabbè. La congregazione mi vedeva ancora come un normalissimo inattivo e non avevo piacere all'idea che un domani gli anziani potessero per via traverse prendere iniziative autonomo del tipo lo abbiamo espulso perché abbiamo scoperto che festeggia il Natale. O cose simili, insomma, situazioni simili, pretesti, insomma. Ho altresì capito che sentivo l'urgenza di prendere una posizione netta e non sarei riuscito a pazientare con una lunga trafila legale. Ho allora pensato che cosa fare e ho fatto chiarezza sui miei obiettivi. 1. Far capire a tutti coloro che mi conoscono che sono uscito con le mie gambe. Anzi, qui si tratta di una coppia, in realtà. Siamo usciti con le nostre gambe. Siamo usciti con le nostre gambe. Non espulsi e cose di questo simile, no? 2. Cercare di smuovere un polverone estendendo informazioni come statuto, come decadenza del titolo, decadenza di socio, in generale sulle procedure di fuoriuscita non canoniche. Quindi volevano mandare con un loro gesto un doppio segnale. Il primo, che non sono stati né espulsi né disassociati, ma sono usciti loro. 2. Allo stesso tempo, far capire ad altri che esistono più modi per uscire da questa organizzazione. Non c'è solo l'espulsione o le dimissioni. Ebbene, dunque, ho pubblicato sullo stato di WhatsApp copia della lettera da noi trasmessa, uno stralcio, e un video dove spiego brevemente che non sono più un TDG, un testimone di Geo, da diversi mesi, che la congregazione però non mi ha risposto. Subito le persone, i contatti, insomma, su WhatsApp, hanno iniziato a cancellare il mio contatto dalla loro rubrica telefonica. Nulla che non mi aspettassi e nulla che non volessi. Cioè, non è che non si è dispiaciuto di questo, no? Nessuno ha provato ancora a contattarmi, anziani compresi. Penso, pertanto, che il messaggio sia passato forte e chiaro. E ne sono contento. Io avevo già scritto una lettera dove palesavo le mie volontà e nessuno, in questi mesi, ha fatto nessun annuncio. Una persona intellettualmente onesta potrebbe chiedersi perché. Adesso sicuramente faranno annuncio. Ma mi sta bene così. Ho però fatto passare un messaggio chiaro, che siamo usciti noi, e senza sottometterci, a quelle pagliacciate dei comitati giudiziari. Ormai, avevo la nausea di tutto questo e grande voglia di chiudere questo capitolo. Detto questo, volevo dirti grazie. Non ci conosciamo di persona, ma ci hai dedicato del tempo, con molta pazienza. Poi mi chiede di salutare Giuseppe Tamo. Peppe, ti saluta. Ti prego di ringraziarlo da parte mia. Tempo fa ha pubblicato un video dove ha parlato della sua storia. Mi ha aiutato molto per via delle numerose analogie con la mia situazione. Ecco, questo, per esempio, questa mail potrebbe ispirare insomma qualcuno di coloro che mi sanno qualche pecora, qualche lupo, qualche leone che però crede di essere pecora, qualche leone che crede di essere pecora, a riconoscere la propria identità e venire fuori e venire fuori da questa associazione nel modo migliore. Nel modo migliore. Ora, capisco che c'è sempre una ragione, no? Si trova sempre una ragione per non fare tutto questo. Noi esseri umani abbiamo una mente che è capace di autoproteggersi dalle paure e trovare quindi una giustificazione per non agire. Sì, lo so, lo so. Qualcuno di noi ce l'ha davvero un serio motivo per non agire. Non lo metto in dubbio. Non dobbiamo generalizzare. Ma a molti di noi, a molti di noi manca solo il coraggio. Manca solo il coraggio. Vabbè, comunque, ho avuto il piacere di condividere questo contenuto con il canale. Se ritenete che a qualcuno questo contenuto possa essere di ispirazione, ecco, condividetelo. Condividetelo perché è giusto che abbia visibilità. Visibilità. Un abbraccio. Alla prossima. Alla prossima.